Buongiorno a tutti, sono Emanuele Circassi Pezzera e sono uno studente della seconda C della sezione Cambridge. Sono qui per parlare un po' di quello che succederà e di quello che farete se deciderete di iscrivervi a questa sezione. Parto con rassicurarvi di non preoccuparvi del nome Cambridge, in quanto avrete le stesse materie che si possono trovare in un normale liceo scientifico tradizionale. Avrete latino, storia, filosofia poi in terza, l'unica aggiunta sarà quella che studierete biologia, fisica e arte in inglese e avrete un programma avanzato per appunto questa lingua straniera. Per fare ciò ovviamente vi serviranno dei libri speciali che vi verranno poi comunicati dai vostri insegnanti. Come potete immaginare avrete verifiche e interrogazioni di queste materie in inglese. Tutto questo però per prepararvi al meglio a quelli che saranno gli esami che avrete in terza per quanto riguarda biologia e fisica e in quarta per quanto riguarda arte e inglese. Ora, per entrare a far parte di questa sezione non serve essere dei geni, l'unica cosa che dovrete avere è una grande forza di volontà, tanta voglia di sacrificarsi, tanta curiosità e un grande amore per appunto la lingua inglese. Fate la vostra scelta e spero di vedervi l'anno prossimo! Salve a tutti, sono Kezia Darko, un'alunna della seconda C sezione Cambridge. Volevo dirvi che prima di entrare nella sezione Cambridge bisogna svolgere un esame da missione per capire le nostre basi e capacità nella materia inglese. Facciamo quattro materie in inglese, ovviamente inglese che ci insegna le regole grammaticali della lingua trattando argomenti attuali per esempio parlando della natura, moda o anche argomenti scientifici. Poi facciamo anche biologia e fisica che ci preparano a passare da pratica a teorie, quindi facciamo le verifiche in inglese e poi facciamo art and design che è una materia che mette insieme tutte le nostre idee durante un percorso per arrivare a un progetto finale.